Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Giovani studentesse dai 18 ai 28 anni residenti in campagna in passerella tra lezioni di cucina, edizione e portamento per diventare future giornaliste Miss Gusto Mediterraneo è l'evento organizzato dalla società Trentanodi in programma venerdì 24 febbraio alle ore 20 alla Galleria del Mare della stazione marittima di Napoli Miss Gusto Mediterraneo per apprendere come comunicare sapori e tipicità della campagna tra mare e terra da costa a costa con Trentanodi Ho preso la chitarra Senza saper suonare Volevo dirtelo Adesso sta a sentire Non ti confondere Prima di andartene Devi sapere che Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Il più grande spettacolo Dopo il Big Bang Siamo noi Perché partecipare a Miss Gusto Mediterraneo? Perché ho saputo del concorso e sembrava una cosa fatta per me Perché è tutto sensazionale qui, è tutto nuovo, è bellissimo da provare Perché offre possibilità e può aprire porte per il futuro Perché è un'opportunità che ci offre di conoscere nuove persone, di imparare tantissime cose, imparare a cucinare, imparare a parlare in modo corretto e a muoverci in modo corretto Perché è un'ottima finestra verso il futuro È un'esperienza che ci offre l'opportunità di conoscere nuove persone Perché è una cosa nuova e ti offre corsi che ti possono servire nella vita e conoscere tante persone È un'ottima opportunità che ci permette di unire le nostre passioni Perché ci dà la possibilità di fare nuove conoscenze e di partecipare a corsi per la nostra formazione come il portamento, la dizione e la cucina Perché mi dà l'opportunità di poter diventare giornalista inviata che è quello che avrei voluto sempre fare Perché è un'opportunità che ci permette di conoscere tante persone anche per quanto riguarda una cultura generale per il portamento, la dizione e la cucina Per affrontare una nuova esperienza con la mia migliore amica Altro che il sabato, altro che le astronavi